Mi sento in dovere di ringraziare il generale Vannacci. Ritengo anche a nome vostro e a nome di tutti gli italiani ai quali è rimasto il buonsenso. Buonsenso, un termine che non ho utilizzato casualmente, perché è anche il titolo del primo capitolo del libro. Ed in effetti vorrei cominciare proprio da qui, perché questo è già l'aspetto che maggiormente vorrei sottolineare di tutta questa vicenda. La risonanza mediatica è stata roboante, ma ciò del quale dovremmo stupirci è proprio questo. Chiarisco, il libro è scritto benissimo, ma non è certo per la scrittura che sta avendo un simile successo editoriale, quindi le straordinarie vendite che sta avendo dipendono evidentemente da altro. E da che cosa? Ma ovviamente dalle tesi sostenute sui vari argomenti trattati. Ecco allora il motivo per il quale dovremmo stupirci. Le tesi sostenute sui vari argomenti trattati dall'autore sono semplicemente, ecco non dico banalmente, ma sono semplicemente tesi di buonsenso, sulle quali non si può che concordare. E questo quindi è lo straordinario, ossia ad essere straordinario è semplicemente l'ordinario. E purtroppo questo dovrebbe allarmarci. Pensare all'ordinario come qualcosa di rivoluzionario non può lasciarci indifferenti, anzi ci deve portare a porci una domanda. Ossia, siamo ancora in tempo per cambiare le cose in maniera pacifica? Siamo ancora in tempo a raddrezzare il mondo che sta andando al contrario? Visto che il libro è stato pubblicato il 10 agosto, ossia meno di dieci giorni fa ed è di gran lunga in testa alle classifiche delle vendite, beh la risposta alla domanda dovrebbe per questo essere sì, siamo ancora in tempo, c'è ancora tanta gente alla quale è rimasto il buonsenso. Se invece ci riferiamo alla reazione avuta dalla classe politica e soprattutto da persone che ricoprono cariche considerate di prestigio all'interno del governo, allora la risposta sarebbe no, non siamo più in tempo. La politica ormai è persa, è totalmente distaccata dal buonsenso, quindi insomma non siamo in grado di dare una risposta univoca alla domanda se la nostra società possa ancora avere il buonsenso come obiettivo da perseguire, ma vorrei fare ancora qualche considerazione. L'autore nella sua nota iniziale scrive se ne consiglia la lettura ad un pubblico adulto e maturo, in grado di comprendere gli argomenti proposti senza denaturarli, interpretarli parzialmente o faziosamente, compromettendone così la corretta espressione e l'originale significato. Io certamente capisco le intenzioni dell'autore, anche se lui stesso è ancora un giovane, insomma è del 68, dai. Tuttavia questa espressione che lui ha usato può essere, diciamo, interpretata con una sorta di scetticismo nei confronti delle giovani generazioni. Insomma, si potrebbe quasi ritenere che l'autore dia per perse le nuove generazioni, non in grado di comprendere gli argomenti proposti senza denaturarli, interpretarli parzialmente o faziosamente. Oddio, forse l'autore ha ragione a ritenere oramai perse le ultime generazioni, ma purtroppo anche una parte del pubblico adulto riterrei che non sia in grado di comprendere gli argomenti proposti senza denaturarli, interpretarli parzialmente o faziosamente. Ne è dimostrazione appunto la reazione dei politici alla quale ho appena accennato. Tuttavia è vero, il problema giovani e giovanissimi esiste. Diciamo per coloro che hanno meno di 30 anni è un problema serio, da non sottovalutare. I giovani dovrebbero essere in prima linea nel proporre cambiamenti, invece lo dico con sofferenza, mi sembrano inebetiti. Naturalmente è sempre bene precisare che generalizzare non è mai corretto, ovviamente. E ovviamente questo non ha nulla a che vedere con il normale, diciamo logico conflitto generazionale. E la mancanza di reazione alle imposizioni che le giovani generazioni hanno manifestato negli ultimi anni a risultare francamente preoccupante. Ma insomma, dai, consoliamoci con quanto detto in precedenza e terminiamo questo video con ottimismo, guardando alle straordinarie vendite fatte registrare da un libro dal costo di 19,76 euro per 373 pagine, una spesa che va, vale assolutamente la pena di fare. Un libro che ha un grande, un grandissimo pregio, quello di infondere la fiducia che il mondo al contrario si può ancora raddrizzare. Alla fine il buonsenso, che caratterizza la maggior parte della popolazione, deve prevalere. E allora fatemi dire ancora una volta, fatemi ripetere grazie, grazie generale Vannacci.